Ora vediamo la seconda tecnica, che è la tecnica solida. Usiamo la tecnica per fare scultura e pezzi più grandi. Il maschio è usato un po' di pezzi. Ma perché sta lavorando con una piccola quantità di glass, dovrà solo avere due minuti per completare, perché non può rimuovere ancora. Ora vediamo la seconda tecnica, che si chiama tecnica solida. Utilizziamo questa tecnica per fare scultura e pezzi più grandi. Il maestro ha lavorato un cavallo. Tendrà solo due minuti per fare, perché trabaja con una quantità di vetro e non può calentarlo ancora. Ora vediamo la tecnica solida. Ora usiamo la tecnica per fare scultura. Solo i bambini che fanno in le fabbrici e lavorano con i maestri per 15-20 anni. Solo i bambini che diventano maestri, e i altri restano assistenti. Non c'è scuola per questo tipo di lavoro. Solo i bambini che arrivano in le fabbrici e lavorano con i maestri per 15-20 anni. Solo i bambini che fanno i maestri, e noi siamo chiedendo aiutanti. Ora faremo il corpo se mette. Solo un garzano che viene qui, il lavoro è 20-20 metri, perché si diventa. Solo i bambini che vengono 8 metri, e noi restano assistenti. E ci sono anche scuole per questo lavoro. E noi siamo in grado di lavoro e lavorano con i maestri per 15-20 anni. Solo i bambini che fanno i maestri per 15-20 anni. e lasciano rimendere i maestri per 15-20 anni. Bene, buongiorno! Grazie a tutti